La Chiesa insegna Uno sguardo cattolico all'attualità per una vita all'insegna della verità Cari amici, care amiche di radio, buon consiglio, buona giornata. Siamo nella settimana santa, che è la settimana culmine di tutto l'anno e che ci porta poi alla Pasqua e quindi anche il nostro appuntamento mensile che parla di dottrina sociale della Chiesa, vogliamo vederlo proprio nella prospettiva di questa settimana santa. Può sembrare un po' strano accostare la spiritualità della settimana santa con i temi sociali, politici, economici e invece è proprio nel mistero della settimana santa che affonda la radice dei criteri con cui poi vogliamo affrontare tutti i temi sociali, politici, economici. Questo è forse un passaggio a cui non siamo abituati perché siamo sempre abituati ad affrontare i temi della società o trattandoli soltanto come se fosse una cosa totalmente autonoma oppure condendoli un po' di buoni atteggiamenti morali che vengono dalla nostra fede ma non fatichiamo normalmente a capire il nesso che c'è diretto tra la nostra fede e l'affronto di tutti i problemi che affrontiamo poi nella vita quotidiana da quelli familiari a quelli, diciamo, più generali sociali. E allora diciamo che da questo punto di vista è provvidenziale che ci troviamo a fare questo incontro proprio a questo tipo di riflessione proprio nella settimana santa perché ci dà proprio lo spunto di tornare alla radice, alla sorgente di quello che è poi anche l'ordine naturale della società. Perché il punto centrale da cui tutto parte, da cui parte la prospettiva cristiana è l'amore, è l'atto d'amore che trova il punto più alto almeno come espressione, come immagine nella crocifissione, nella morte di Gesù in croce. E questo è il punto centrale. Non per niente noi abbiamo poi la croce come simbolo ma proprio perché questo amore è proprio il segno più grande dell'amore di Dio verso gli uomini, verso ognuno di noi e verso tutti gli uomini. E questo qui è proprio il fondamento anche poi sappiamo dell'amore al prossimo. Dice San Giovanni, l'Apostolo San Giovanni, dice nella sua prima lettera, al capitolo 4 E carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Questo è un punto centrale che lega l'amore di Dio per noi e quindi anche il nostro amore verso Dio e l'amore al prossimo. Cose che poi approfondiremo andando avanti. Però mi sembra importante fermarsi un momentino proprio sul mistero di questo amore di Dio che anche qui abbiamo tante volte per scontato. Parliamo tanto, sì, l'amore di Dio, Dio ci amate, ma veramente poco ci fermiamo a riflettere sulla profondità di questo amore, di cosa vuol dire accettare la morte in croce. Io soltanto, ovviamente, non possiamo fare tutta una meditazione. Ne avrete tantissimo in questa settimana di meditazioni sulla passione. Ma ci sono alcune, per esempio, di Sant'Alfonso e Maria degli Vuori che sono comunque belle, che voglio offrirvi anche come spunto per dare l'idea di questo incommensurabile amore di Dio che facciamo fatica anche ad esprimere con le parole. Dice Sant'Alfonso, eccoci alla crocifissione, all'ultimo tormento che diede morte a Gesù Cristo. Eccoci al Calvario fatto teatro dell'amor divino, dove un Dio lascia la vita in un mar di dolori. Amio Gesù, da chi mai vi furono inchiodate le mani e piedi su questo legno se non dall'amore portato agli uomini. Voi, col dolore delle mani trafitte, voleste pagare tutti i peccati che gli uomini hanno fatti col tatto e col dolore dei piedi voleste pagare tutti i nostri passi da noi dati per andare ad offendervi. Ecco come si ama, pare che ci dica tutti lo stesso Redentore dalla croce, allorché noi, per non soffrire qualche molestia, abbandoniamo le opere di suo gusto e talvolta giungiamo a rinunziare anche alla sua grazia e al suo amore. Egli ci ha amati sino alla morte e non scese dalla croce se non dopo di avervi lasciato la vita. La morte di croce che è una morte terribile, una morte peggiore. Sant'Agostino dice non esservi morte più acerba che la morte di croce, perché, come riflette Sant'Ommaso, i crocifissi sono trafitti nelle mani e nei piedi, luoghi che per essere tutti composti di nervi, muscoli e vene sono sensibilissimi al dolore. E lo stesso peso del corpo che pende fa che il dolore sia continuo e sempre più si aumenti sino alla morte. Ma i dolori di Gesù superarono tutti gli altri dolori, mentre dice l'angelico che il corpo di Gesù Cristo, essendo perfettamente complessionato, era più vivace e sensibili ai dolori. Ecco, poche parole, ma che forse ci fanno almeno intuire l'enormità del dolore innocente sopportato da Cristo a causa dei nostri peccati, messo a confronto con, come dice Sant'Alfonso Maria dei Viguori, noi pur di non soffrire qualche piccola molestia, abbandoniamo le opere di Dio, lo tradiamo, pecchiamo, ci allontaniamo dal suo amore. per dire l'abisso, l'abisso che c'è fra l'amore di Dio e la nostra pochezza. E malgrado tutto, appunto, Dio non scende dalla croce se non dopo aver dato la vita, come dice appunto Sant'Alfonso. Ecco, questa riflessione non è, come dire, il pensierino della settimana santa, ma è la coscienza che deve animare tutto il nostro vivere, il nostro vivere è ovviamente la nostra vita personale, ma la nostra vita sociale, perché noi siamo fatti appunto per vivere con gli altri, non siamo fatti così per vivere da soli. E allora torniamo ancora alle parole di San Giovanni, apostolo, perché se Dio ci ha amati, abbiamo visto come ci ha amati, cominciamo a intuire come ci ha amati, è che noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. E non semplicemente così in modo sentimentale, perché tante volte noi appunto ci consideriamo l'amore in un modo sentimentale, è quello che dice anche l'enciclica di Benedetto XVI, Deus Caritas Est, Dio è amore, l'enciclica del 2005 che anche questa pone appunto una serie di criteri chiari che anche per la dottrina sociale. Qui l'amore è un qualcosa di molto più profondo che un semplice sentimento che poi è passeggero. E questo amore trinitario che si rivela attraverso Cristo, che rivela anche la vocazione della persona umana all'amore. Questo ce lo dice anche il compendio di dottrina sociale della Chiesa, che io cito sempre, porto sempre come punto di riferimento per i nostri incontri. E non a caso proprio il compendio di dottrina sociale della Chiesa dedica tutta la prima parte proprio alla descrizione dell'amore di Dio, perché questo è il fondamento e quindi con tutte le conseguenze che questo comporta. Tale rivelazione, troviamo appunto il numero 34 del compendio di dottrina sociale della Chiesa, illumina la dignità e la libertà personale dell'uomo e della donna e l'intrinseca socialità umana in tutta la loro profondità. Essere persona a immagine e somiglianza di Dio, perché questo siamo, comporta un esistere in relazione, in rapporto all'altro io, perché Dio stesso, uno e trino, è comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nella comunione d'amore che è Dio, nel quale le tre persone divine si amano reciprocamente e sono l'unico Dio, la persona umana è chiamata a scoprire l'origine e la meta della sua esistenza e della storia. Ecco, quindi, questo è un punto fondamentale, perché l'amore quindi è, l'amore di Dio è anche il paragone, come dire, la rivelazione anche della nostra vocazione all'amore, è anche il comandamento di amare il prossimo. E qui possiamo riprendere anche l'enciclica Deus Caritas Est, scusate perché io ho diversi appunti, quindi magari non sempre sono velocissimo a cambiare pagina, però ecco, qui torniamo sempre, anche in questa enciclica, c'è appunto il riferimento alla croce, e ci dice appunto Benedetto XVI, nella sua morte in croce si compie quel volgersi di Dio contro se stesso, nel quale egli si dona per rialzare l'uomo e salvarlo. Amore questo nella sua forma più radicale. Lo sguardo rivolto al fianco squarciato di Cristo, di cui parla Giovanni, comprende ciò che è stato il punto di partenza di questa lettera enciclica, cioè Dio è amore. È lì che questa verità, quindi è lì, cioè nel fianco squarciato di Cristo, che la verità di Dio amore può essere contemplata. Ma diciamo che Gesù non si ferma qui, non siamo qua semplicemente a pensare a quello che è successo duemila anni fa. Ci dice ancora Benedetto XVI, a questo atto di offerta, cioè a questo amore donato sulla croce, Gesù ha dato una presenza duratura attraverso l'istituzione dell'Eucaristia durante l'ultima cena. E anche qui siamo sempre nel pieno della settimana santa, qui ci riferiamo al giovedì santo. Egli anticipa la sua morte e resurrezione donando già in quell'ora i suoi discepoli, donando già in quell'ora i suoi discepoli nel panellentino se stesso, il suo corpo e il suo sangue come nuova manna. L'Eucaristia quindi ci attira nell'atto oblativo di Gesù, cioè partecipando all'Eucaristia, vivendo l'Eucaristia, noi viviamo, veniamo coinvolti, dice Benedetto XVI, veniamo coinvolti nella dinamica della sua donazione, veniamo fatti partecipi di questa sua donazione. Questo non è soltanto, come dicevo prima, una questione semplicemente personale. E' ancora Benedetto XVI che ci spiega questo fatto, cioè dice al numero 14, sempre della Deus Caritas Est, c'è da fare attenzione a un altro aspetto, La mistica del sacramento ha un carattere sociale, perché nella comunione sacramentale io vengo unito al Signore come tutti gli altri comunicanti. Poiché c'è un solo pane, dice San Paolo, noi pur essendo molti siamo un corpo solo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. L'unione con Cristo, cioè, è allo stesso tempo unione con tutti gli altri e i quali Egli si dona. Io non posso avere Cristo solo per me. Posso appartenergli soltanto in unione con tutti quelli che sono diventati o diventeranno Suoi. Diventiamo un solo corpo. Amore per Dio e amore per il prossimo ora sono veramente uniti. Il Dio incarnato ci attrae tutti a sé. Solo a partire da questo fondamento cristologico sacramentale si può capire correttamente l'insegnamento di Gesù sull'amore. Quindi si capisce quindi il duplice comandamento dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Nel culto stesso, nella comunione eucaristica, quindi, è contenuto l'essere amati e l'amare a propria volta gli altri. Ma c'è un passaggio ulteriore perché l'amore verso gli altri non si limita soltanto a quelli che condividono la nostra stessa fede, ma come sempre il Bonnetto XVI spiega, sempre nella Deus Caritas Est, la parabola del buon samaritano ci porta a vedere che il concetto di prossimo viene universalizzato, rimanendo sempre concreto. Questo ci fa capire che appunto il muoversi verso gli altri è parte, come dire, parte integrante proprio del mistero, anche della rivelazione di Dio, del mistero della settimana santa, il mistero dell'amore. Ed è per questo che, tra l'altro, il Bonnetto XVI è interessante come lega poi quella che è la realtà immediata delle comunità cristiane, della Chiesa, fin dalle sue origini, quindi vive la carità, quindi l'attenzione ai poveri, agli emarginati, le vedove, gli orfani, eccetera, come dimensione fondamentale del suo essere Chiesa, insieme alla liturgia, insieme appunto all'eocarestia e le prime comunità da sempre, anzi, cioè non le prime, da sempre, perché tuttora è così, l'attività caritativa, l'attenzione verso il povero, verso colui che ha bisogno, è come dire una parte fondamentale. Noi abbiamo anche come dire l'esempio fin dall'inizio all'interno delle comunità cristiane in cui viene descritto anche negli atti delle apostoli che nessuno rimaneva nel bisogno, cioè laddove c'era la distinzione tra ricchi e poveri scompariva perché comunque il bisogno di tutti veniva soddisfatto in qualche modo. E questo però la, come dire, la pienezza di questo amore verso il prossimo è nel fatto che io amo, dice ancora Dalletto XVI, io amo in Dio e con Dio anche la persona che non gradisco o neanche conosco. Questo succede perché nell'incontro con Dio partecipo della stessa novità di Dio e quindi guardo agli uomini con lo stesso sguardo di Dio. Allora imparo a guardare quest'altra persona non più soltanto con i miei occhi, con i miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo. Il suo amico è mio amico. e questo non è soltanto un movimento in una direzione, cioè non c'è soltanto io siccome amo Dio vivo l'Eucarestia, partecipo quindi del mistero di Dio, allora mi accorgo degli altri, ma è vero anche nel senso opposto. solo la mia disponibilità ad andare incontro al prossimo dice sempre Benedetto XVI solo la mia disponibilità a mostrargli amore mi rende sensibile anche di fronte a Dio. Solo il servizio al prossimo apre i miei occhi su quello che Dio fa per me e su come Egli mi ama. Ecco quindi che appunto fa questo riferimento poi alle comunità cristiane. All'interno della comunità dei credenti non deve esservi una forma di povertà tale che a qualcuno siano negati i beni necessari per una vita dignitosa. E con il passare degli anni, con il progressivo di fondersi della Chiesa, l'esercizio della carità si confermò come uno dei suoi ambiti essenziali insieme con l'amministrazione dei sacramenti e l'annuncio della parola. Dice ancora Benedetto XVI praticare l'amore verso le vedove e gli orfani verso i carcerati i malati i bisognosi di ogni genere appartiene alla sua essenza tanto quanto il servizio dei sacramenti e l'annuncio del Vangelo. E poi fa tutta una serie di esempi che dimostrano come anche nella percezione del mondo pagano il cristiano e la Chiesa veniva identificata con questa specificità di attenzione verso il prossimo o verso gli altri. Le citazioni sono tante ma adesso ovviamente potete andarvi a rileggere i punti da 20 a 25 della Deus Caritas Seste e trovate questi esempi queste semplificazioni. Però qui il discorso si allarga proprio a come dire all'attenzione ai bisogni del mondo delle persone che incontriamo. qui si entra più diciamo nel merito della anche della dottrina sociale della Chiesa perché appunto da tutto questo movimento di amore nasce poi tutta una serie di conseguenze sociali. L'altra questione è che appunto Gesù non è venuto Dio non si è incarnato non ha vissuto la passione e la risurrezione per risolvere i problemi del mondo ma per salvarci ma e salvare ciascuno di noi ma salvare tutta la nostra persona non si salva solo l'anima la risurrezione finale è una risurrezione della carne la risurrezione dei corpi quindi corpo e anima tutte e due fanno parte diciamo di questo mistero della salvezza ed è per questo anche che storicamente il cristianesimo poi si è sempre interessato alla società non c'è una divisione una distinzione sì ma non c'è una divisione fra anima e corpo sono sempre state giudicate eretiche quelle diciamo teorie o quelle tesi che o esaltano soltanto l'anima o esaltano soltanto il corpo oppure considerano il corpo la realtà fisica tutta negativa questo no c'è una profonda unità ed è per questo che ci interessiamo anche di tutti i problemi politici economici sociali tutto quello che insomma siamo chiamati siamo chiamati a vivere nella nostra realtà quotidiana non perché c'è una ricetta di un diciamo una ricetta che risolve tutti i problemi o che si può trasformare in un partito in un programma di partito no non è questo ma ci sono dei criteri per cui possiamo affrontare in un modo giusto anche tutti i problemi che ci si parano davanti e che diciamo cambiano anche a volte nel tempo ci sono delle specificità sicuramente la situazione dei tempi di di Gesù non presentava tante complessità come quelle che abbiamo poi trovato dopo la rivoluzione industriale oggi le sfide che ci pone la rivoluzione tecnologica in questi giorni si parla tanto di intelligenza artificiale che pone altre grandissime sfide quindi è ovvio che va sempre tutto aggiornato anche la riflessione va aggiornata ma sempre a partire da questo da questo da questo punto da questa sorgente l'amore di Dio è l'amore verso tutti gli uomini che ci chiama ci chiama quindi noi ad essere ad amare tutti gli uomini e e quindi su questa base poi affrontare affrontare tutti i problemi nascono da questi tutti i principi anche di solidarietà per esempio di giustizia dove però vanno bene capite le cose allora a proposito di giustizia ad esempio è interessante una una nota che fa benedetto sedicesimo perché dice al numero 26 di Deus Carita Seste fin dall'ottocento contro l'attività caritativa della Chiesa è stata sollevata un'obiezione sviluppata poi con insistenza soprattutto dal pensiero marxista i poveri si dice non avrebbero bisogno di opere di carità bensì di giustizia le opere di carità le lemosine in realtà sarebbero per i ricchi un modo di sottrarsi all'instaurazione della giustizia e di acquitare la coscienza conservando le proprie posizioni e frodando i poveri nei loro diritti invece di contribuire attraverso singole opere di carità al mantenimento delle condizioni esistenti occorrerebbe creare un giusto ordine nel quale tutti ricevano la loro parte dei beni del mondo e quindi non abbiano più bisogno delle opere di carità in questa argomentazione dice il benedetto sedicesimo c'è anche del vero ma anche non poco di errato perché sicuramente lo dice e assumo lo Stato deve poi perseguire la giustizia e un giusto ordine sociale ma non si può dimenticare alcune come dire alcune verità sull'uomo e sulla società che questa analisi puramente materialistica dimentica però credo che l'esempio più grande sia quello dell'opera di madre Teresa di Calcutta anche lei veniva rimproverato il fatto una delle tante cose che veniva rimproverata ma questo sicuramente coglieva un punto che anche fra cattolici è difficile capire che è questo cioè lei accompagnava questi moribondi alla morte non si preoccupava di risolvere il problema della povertà o diciamo come anche trovare i sistemi perché non fossero più non ci fossero questi moribondi o diciamo queste situazioni lei semplicemente andava raccogliere questi moribondi li portava in questa casa di accoglienza li lavava li curava ma li accompagnava semplicemente alla morte e poi su questo lei fu anche accusata perché si diceva approfittava di queste situazioni per poi convertire le persone quindi sappiamo che madre Teresa è passata attraverso anche delle prove non proprio semplici proprio anche per queste accuse ha dovuto subire violenze nelle sue diciamo nelle aggressioni nelle sue opere ma appunto questo dà l'idea della differenza della differenza anche dell'amore cristiano l'amore cristiano guarda anche a quella certo che bisogna anche occuparsi chi fa la politica è giusto che si occupi anche dei temi della giustizia che quindi cerchi di risolvere creare un ordine un ordine sociale il più giusto possibile quindi evitare sperequazioni evitare situazioni di questa estrema miseria ma c'è una dimensione dell'uomo che va oltre il diciamo che va oltre anche la diciamo la soddisfazione dei bisogni materiali che va oltre la questione della soluzione della povertà materiale quello che madre Teresa ha fatto è ridare dignità alla persona amare far sentire la persona amata esattamente come Dio ama ciascuno di noi e a questo proposito Benedetto XVI spiega alcune due questioni da puntualizzare proprio davanti a questa obiezione che viene fatta per definire più accuratamente la relazione tra il necessario impegno per la giustizia e il servizio della carità bisogna prendere due notare due fondamentali situazioni di fatto cioè il giusto il primo è che il giusto ordine della società e dello Stato è compito centrale della politica la giustizia è sicuramente lo scopo e quindi anche la misura intrinseca di ogni politica però bisogna quando si affronta il tema della giustizia bisogna anche dire che cos'è la giustizia perché è un base giustizia ma cosa intendiamo noi per giustizia la ragione per poter operare rettamente deve sempre essere purificata perché il suo accecamento etico derivante dal prevalere dell'interesse e del potere che la bagliano è un pericolo mai totalmente eliminabile e cioè non dobbiamo dimenticare che c'è il peccato originale quindi la ragione quindi il modo di affrontare i problemi va sempre purificato e la Chiesa serve a questo la fede serve a questo dice in questo punto politica e fede si toccano la fede permette alla ragione di svolgere in modo migliore il suo compito e di vedere meglio ciò che le è proprio quindi la dottrina sociale della Chiesa argomenta a partire dalla ragione e dal diritto naturale cioè a partire da ciò che è conforme alla natura di ogni essere umana cioè se Dio ci ha amati ci ha amati ma che ci ha creati dal suo amore ci ha creati ci ha creati in un certo modo quindi con un certo ordine tutto il creato è secondo un certo ordine ed è questo ordine che noi dobbiamo rispettare che la ragione deve rispettare la giustizia è il rispetto di quest'ordine naturale e quindi il modo diciamo il destino l'obiettivo a cui ordiniamo ogni decisione politica quindi la Chiesa non ha un progetto politico in sé non deve realizzare lei la società giusta non si mette al posto dello Stato ma ha questo aspetto dell'indicare del purificare la ragione da una parte il secondo aspetto è che l'amore la caritas sarà sempre necessario anche nella società più giusta non c'è nessun ordinamento statale giusto che possa rendere superfluo il servizio dell'amore chi vuole sbarazzarsi dell'amore si dispone a sbarazzarsi dell'uomo in quanto uomo ci sarà sempre sofferenza che necessita di consolazione e di aiuto sempre ci sarà solitudine sempre ci saranno anche situazioni di necessità materiale e c'è bisogno perciò dell'amorevole dedizione personale perché l'uomo non è soltanto fatto di materia l'uomo appunto ha una dimensione trascendente e l'uomo ha bisogno di amore in questo momento allora abbiamo già raggiunto i 35 minuti facciamo una pausa e poi entriamo diciamo nella concretizzazione di alcuni principi di dottrina sociale della Chiesa che derivano proprio da questa lunga introduzione che ho fatto un po' un po' un po' Grazie a tutti. 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 proprietà privata del lavoro quindi come quindi anche dell'attività personale come possibilità di sostentamento della famiglia il diritto a fondare liberamente una famiglia e ad accogliere ed educare i figli esercitando responsabilmente la propria sessualità torniamo il discorso quindi su quali sono i fondamenti della della famiglia e poi appunto generare nuova vita e poi fonte e sintesi di questi diritti dice sempre giovanni paolo secondo nella centesimo annus fonte sintesi di questi diritti è in un certo senso la libertà religiosa intesa come diritto a vivere nella verità della propria fede e in conformità alla trascendente dignità della propria persona perché bisogna sempre ricordare appunto che per quanto vediamo soprattutto lo stato moderno in tutte le sue forme cerchi di ridurre o comunque opera una riduzione dell'uomo a una serie di bisogni materiali è fondamentale che invece venga riconosciuta questa dimensione trascendentale che che è fondamento anche della dignità della della persona il primo diritto ad essere enunciato in questo elenco ci ricorda il compendio di dottrina sociale della chiesa al numero 155 è il diritto alla vita dal concepimento fino al suo esito naturale questo condiziona l'esercizio di ogni altro diritto e comporta in particolare l'illecità di ogni forma di aborto procurato e di eutanasia capite quindi come come questi questi temi che da volte vengono pensati come una posizione ideologica della chiesa sulla bordo l'ottanasia ma queste sono emanazione diretta di quello che è la rivelazione di dio nel anche nel nell'incarnazione la passione morte risurrezione poi ovviamente ci sono tanti tanti attività ma ci sono poi una serie però di di principi che sono stati formulati nella nella dottrina sociale della chiesa che adesso almeno alcuni vanno almeno accennati perché sono diciamo fondamentali abbiamo visto quindi tutto il tema della della dignità umana e quindi dei diritti alla vita la famiglia questo anche il diritto all'educazione che tra l'altro poi benedetto sedicesimo definì proprio i principi non negoziabili proprio perché essendo legati alla dignità stessa della persona alla natura della persona non possono essere frutto poi soggetti a un negoziato per comprometterli cioè discutiamo magari non so dell'aborto fino a qualche settimana in modo ecco ci mettiamo d'accordo con altri che la pensano in modo completamente diverso no è di fronte a quello che è un ordine è un ordine stabilito da dio che per questo amore a noi perché ci ha fatto in un certo modo strutturati in un certo modo ha dato la vita in un sopportando su di sé delle sofferenze estreme che nessun altro può può sopportare non possiamo noi ricordate la frase iniziale che ho citato di sant'alfonso maria degli cuori non possiamo girarci tradirla per metterci d'accordo con qualcun altro per evitare qualche molestia no dice sant'alfonso quindi però ci sono accanto a questi diritti che sono sono appunto parte proprio della dignità della dignità umana che mi sono diritti umani fondamentali non sono negoziabili sulla vita non si può stare a discutere non c'è nessuno non c'è nessun compromesso da trovare anche sull'eutanasia oggi si cercano di trovare dei sistemi per giustificare che in fondo in alcuni casi non si può parlare di eutanasia ma forse semplicemente una facciamo un modo per accompagnare naturalmente si cercano tutta una serie di 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 come si di frasi o di di o di espressioni che confondono su quello che è il vero significato anche quando si parla di testamento biologico come se fossimo a noi a decidere in certe situazioni cosa fare cosa laddove c'è in ballo proprio la vita quindi non se curarsi in un modo o in un altro che più che lecito se rifiutare un certo tipo di terapia o meno ma proprio decidere quando morire e questo che appunto non può essere negoziato in nessun modo quindi questi sono comunque i principi fondamentali che attengono proprio alla natura dell'uomo e la sua dignità come immagine in quanto immagine e somiglianza ritiva poi ci sono tutta una serie di principi che comunque discendono da quello che abbiamo detto finora ma che poi possono essere applicati anche con politiche con politiche diverse però sempre avendo presente di cosa si tratta e il primo è sicuramente il principio del bene comune che è peraltro un principio molte volte diciamo equivocato ci sono ognuno si dice bene comune poi ognuno pensa il bene comune come come vuole vediamo un attimo come lo definisce il la dottrina sociale della chiesa al numero 164 del compendio troviamo scritto che intanto questo viene dalla dignità unità e ugualianza di tutte le persone ma il bene comune non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ciascun soggetto del corpo sociale essendo di tutti e di ciascuno è e rimane comune perché indivisibile e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo a crescerlo e custodirlo anche in vista del futuro quindi bene comune intanto non è appunto la somma di beni particolari ma è appunto questo bene che riguarda tutti noi e ciascuno di noi quindi che è ordinato a allo scopo per cui dio ci ha creati quindi ad esempio il difendere la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è questa parte del bene comune perché non è il bene mio personale che credo nella famiglia e non è il bene di un altro che invece crede nel divorzio il bene comune è tutto ciò che è è ordinato a questa diciamo a quello che è il disegno il disegno di dio è il bene di tutti gli uomini e di tutto l'uomo quindi non si può scendere non può essere un qualcosa che per qualcuno sia per qualcun altro no qualcuno il bene una cosa per qualcuno il bene un'altra questi non parliamo di di beni semplicemente materiale ma parliamo del bene appunto che riguarda tutti le esigenze del bene comune dice ancora il compendio al numero 166 derivano dalle condizioni sociali di ogni epoca e sono strettamente connesse al rispetto e alla promozione integrale della persona e dei suoi diritti fondamentali quindi è appunto legato come dicevo a quello che è il bene della persona quindi se il bene della persona è il diritto alla vita è il diritto alla famiglia come l'abbiamo prima sentito ecco non è che poi allora può esserci un bene comune che è sganciato è sganciato da questo a volte appunto si danno altre accezioni del bene comune ma insomma questo ecco poi altri altri temi c'è per esempio il principio di sussidiarietà che è un principio fondamentale della dottrina sociale della chiesa quindi c'è la sussidiarietà al numero 185 tra le più costanti e caratteristiche direttive della dottrina sociale della dottrina sociale della chiesa ci sono tutta una serie di indicazioni concrete tra cui appunto dice il principio di sussidiarietà protegge le persone dagli abusi dalle istanze sociali superiori e sollecita queste ultime ad aiutare i singoli individui e corpi intermedi a sviluppare i loro compiti questo principio si impone perché ogni persona famiglia e corpo intermedio ha qualcosa di originale da offrire alla comunità cioè la sussidiarietà indica la l'importanza di quelle che sono la persona la famiglia e corpi intermedi nel nel rispondere ai bisogni che incontrano lo stato quindi le istanze superiori sono in qualche modo devono aiutare le famiglie a svolgere il loro compito esempio laddove le famiglie sono in grado di rispondere anche al 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 bisogno di educazione istruzione quindi pensiamo le scuole paritarie o meglio ancora le scuole parentali lo stato deve favorirle non deve imporre la scuola di stato l'insegnamento di stato l'istruzione di stato chiaro che lo stato si intesa di garantire dei livelli di apprendimento di di conoscenza delle e ogni scuola dovrà avere ma chiaro che l'educazione quindi l'istruzione come parte dell'educazione è compito anzitutto delle delle famiglie quindi devono essere favorite le le scuole parentali e anche caso italiano le scuole paritarie ma sappiamo che ci sono esperienze all'estero soprattutto negli stati uniti di homeschooling che sono ancora cose diverse dalla scuola parentale proprio la scuola fatta in casa quindi la possibilità che i bambini abbiano che abbiano la possibilità di di studiare con in casa i propri genitori o con con anche qui si hanno poi sussidi certo ci sono dei programmi non è che sono delle cose così campate in aria ma è importante che appunto ci siano queste la possibilità che la persona la famiglia qualsiasi altro corpo intermedio e poi le associazioni ma stessa chiesa possano svolgere la loro funzione sociale questo è un principio importante l'altro principio punto è quello della solidarietà che appunto è più legato direttamente almeno come diciamo come concetto al quello all'amore verso il prossimo come come no fin da subito veniva veniva dalla come conseguenza dell'amore di dio nei nostri confronti la solidarietà conferisce siamo al numero 192 del compendio di dottrina sociale della chiesa la solidarietà conferisce particolare risalto all'intrinseca socialità della persona umana all'uguaglianza di tutti indignità e diritti al comune cammino degli uomini e dei popoli verso una sempre più convinta unità mai come oggi c'è stata una consapevolezza tanto diffusa del legame di interdipendenza tra gli uomini e i popoli che si manifesta a qualsiasi livello quindi tutte le nuove relazioni di interdipendenza tra uomini e popoli devono trasformarsi in relazioni tese a una vera e propria solidarietà etico sociale il vertice insuperabile della prospettiva indicata è la vita di gesù di nazareth solidale con l'umanità fino alla morte di croce e qui torniamo al come dire al punto al punto dal cui siamo partiti gesù di nazareth fa risplendere dinanzi agli occhi di tutti gli uomini il nesso tra solidarietà e carità illuminandone l'intero significato alla luce della fede la solidarietà tende a superare se stessa a rivestire le dimensioni specificamente cristiane della gratuità totale del perdono e della riconciliazione allora il prossimo non è soltanto un essere umano con i suoi diritti e la sua fondamentale eguaglianza davanti a tutti ma diviene la viva immagine di dio padre riscattata dal sangue di gesù cristo e posta sotto l'azione permanente dello spirito santo egli pertanto deve essere amato anche se nemico con lo stesso deve essere amato con lo stesso amore con cui lo ama il signore e per lui bisogna essere disposti al sacrificio anche supremo dare la vita per i propri fratelli pensate queste parole mettete in relazione anche alle situazioni di guerra che stiamo al cui stiamo assistendo alle immagini terribili che abbiamo visto anche in questi giorni riguardo alla morte in un centro per immigrati messico capite che capite che la solidarietà innanzitutto uno sguardo diverso sull'uomo anche sul nemico la capacità di perdono di riconciliazione è come dire ne abbiamo parlato in puntate precedenti è come dire il affonda proprio è fondamentale senza di questo non c'è la pace ma affonda proprio nello nel nell'essere partecipi di questo sguardo che dio ha su tutti gli uomini non è uno sforzo moralistico è proprio saper guardare tutti anche quelli che ci danno fastidio a cominciare dalla famiglia a cominciare dai parenti dagli amici dalle comunità religiose dai confratelli quindi e via via allargare guardare ogni persona che la più molesta appunto con gli occhi di cristo che desidera la salvezza di quella persona che è morto anche per quella persona morto in croce per quella persona capite che quello a chiama la dottrina sociale della chiesa e quindi gesù stesso è un è un compito compito grande un compito importante richiede costantemente la nostra conversione perché siamo lontanissimi da 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 questo sguardo da questa prospettiva ma dobbiamo imparare dobbiamo pregare dobbiamo chiedere perché che la preghiera diventa fondamentale se vogliamo vivere la dottrina sociale della chiesa per quello che è e quindi io vi auguro visto che siamo nella settimana santa e ormai abbiamo finito il nostro tempo vi auguro punto di di vivere questi questi giorni ma è poi anche tutto il tempo pasquale con questo desiderio di conversione di di saper corrispondere il più possibile all'amore che dio ci ha mostrato appunto sopportando la morte di croce grazie e buona pasqua a tutti la chiesa insegna uno sguardo cattolico all'attualità per una vita all'insegna della verità grazie a tutti